Questo tentativo, direi quasi più di un tentativo, adesso è anche un attacco massiccio alle autonomie speciali, io lo giudico molto preoccupante, anche per il fatto che chi fa bene, chi gestisce bene, chi gestisce a livelli europei viene attaccato proprio perché riesce a rendere i servizi necessari ai cittadini riesce a avere un'economia che nonostante i tempi di crisi ancora non è entrata in crisi profonda, anche se si avverte qualche segno di crisi, e io trovo questo attacco profondamente ingiustificato. Si potrebbe spiegarlo con invidia, però io dico, noi qui in Alto Alge e in Trentino, nella Valle d'Aosta, riusciamo a rendere i servizi di cui hanno bisogno, cerchiamo di migliorare, proprio di essere anche ai livelli europei e per questo ci attaccano, cioè a me è una cosa inconcepibile, però è espressione di un atteggiamento che si avverte ormai già da qualche anno a livello nazionale, secondo me, infatti è anche collegato un po' con la riforma del titolo quinto, però credo soprattutto anche con la crisi economica e finanziaria. Questo lavoro sulla nuova autonomia consiste in un progetto che viene finanziato dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito del finanziamento alla ricerca, il quale viene gestito dall'Università di Innsbruck, Bart Obex, da me e da Andrea Seisende, assieme all'OIRAC di Bolzano con Francesco Palermo, le colleghe dell'OIRAC e con la libera università di Bolzano con Stefania Baroncelli. La tematica è semplice, da una parte è molto complessa da un'altra, ci occupiamo degli effetti del diritto dell'Unione Europea sulle competenze del Sud Tirolo. Dunque la domanda è, il diritto dell'Unione Europea, quali effetti concreti ha sul contenuto delle nostre competenze, cioè su quello che noi ancora possiamo regolare autonomamente. E questo naturalmente poi porterà, forse anche un assestamento, a nuove idee, all'indicazione di punti deboli, punti che possiamo rafforzare per la nostra autonomia.